Il 10 ottobre esiterà la seconda edizione di Leonessa 2015. La giornata sarà divisa in due parti, la prima con dei tavoli tematici dove si parlerà dell'Europa, la seconda parte con interventi ed interviste sul palco. Tematica del 2015 sarà Brescia incontra l'Europa. Esatto, quest'anno ci sarà la seconda edizione della Leonessa che avrà come tema centrale Brescia incontra l'Europa, in quanto come l'anno scorso che è stato scelto il tema del lavoro, l'associazione sceglie sempre delle tematiche che sono di attualità. Quest'anno, e ve lo spiegherà meglio la presidente di Brescia Gambiaverso, è stata introdotta una grande novità nell'organizzazione della Leonessa che è stata quella di coinvolgere nell'attività organizzativa una serie di associazioni che operano sul territorio. E questa è stata veramente un'iniziativa molto importante e interessante da parte di Brescia Cambiaverso perché ha portato ad un'inclusione di tantissime risorse e tantissime menti che hanno creato questo evento. Per cui fare rete ritengo che sia molto importante. Allora, il 10 ottobre alla White Room del Museo di Santa Giulia di Brescia si terrà la seconda edizione della Leonessa 2015. L'evento inizierà alle 2 del pomeriggio con la registrazione di tutte le persone che vogliono partecipare e prendo l'occasione per ricordare che comunque la partecipazione all'evento è completamente gratuita. Ci sarà una prima parte della giornata organizzata con dei tavoli tematici che trattano delle tematiche particolari che riguardano il tema centrale della giornata che è Brescia incontra l'Europa. Al termine di questa sessione di lavoro ci sarà un coffee break sponsorizzato e gestito anche questo dalle associazioni che organizzano la manifestazione. In una seconda parte ci saranno delle interviste, degli interventi sul palco. In conclusione poi della serata consegneremo il premio Leonessa 2015 al sindaco di Lampedusa Giussi Nicolini per l'impegno e le difficoltà che sta attraversando nella gestione degli immigrati e alla fine speriamo che ci sia una grande partecipazione di soprattutto gente comune e giovani. Volevo dire che la Leonessa quest'anno sarà nel Museo di Santa Giulia di Brescia poiché la particolarità è della location. L'anno scorso è stato scelto il deposito della metropolitana poiché il cuore centrale comunque della città. La città pulsa anche per il nostro patrimonio artistico. Ricordiamo che comunque abbiamo un sito UNESCO sui Longobardi di cui il Museo Santa Giulia comunque fa parte. Quindi abbiamo scelto una location storico e culturale in modo che ci agganciamo anche per quanto riguarda l'Europa. L'Europa è bella, ha un sacco di patrimonio artistico, l'Italia di più e anche Brescia vogliamo dire che ha tanto patrimonio artistico e la vogliamo ricordare bella com'è. Allora noi abbiamo apprezzato in maniera particolare la richiesta che ci è stata fatta di collaborare nella realizzazione della Leonessa. Riteniamo che sia importante mettere in rete le capacità che sono presenti sul nostro territorio, le risorse che sono presenti nel nostro territorio. Per questo motivo riteniamo sia importante che anche lontano dall'ambito e dal contesto cittadino ci sia la possibilità di essere coinvolti in un ragionamento politico e culturale come quello che ci è stato proposto. Per questo motivo ci ha fatto piacere trovare nell'elenco delle associazioni che hanno collaborato nella realizzazione di questo evento anche associazioni culturali e politiche di natura veramente comunale e secondo me è un passo significativo in avanti rispetto a un contesto politico che invece vede tendenzialmente agire su questi fronti o semplici partiti o semplici associazioni da sole. Questa è un'opportunità vera per il territorio bresciano. Volevo dare un messaggio a tutti gli ascoltatori dicendo che la Leonessa 2015 è l'occasione giusta per dire la propria quindi vi aspettiamo numerosi.